potreste avere il nome il nome di chiesa potreste avere il nome di tabernacolo o metodista o qualsiasi chiesa in cui andate non è quello amico vedete è qualcosa di diverso è il tuo carattere ecco quello che Dio sta cercando potreste essere metodista potreste essere battista potreste essere presbiteriano non è quello è il carattere che Dio guarda non solo il carattere terreno ma il carattere dello Spirito Santo questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto disse Gesù nel sedicesimo capitolo di San Marco lei era così toccata che lui persino le parlasse rimase col suo piccolo capo abbassato e corse in casa lui aspettò per una settimana o due e guardò ovunque e dappertutto e non disse mai altro ma continuò a osservarla e la notte prima di partire lui doveva partire il mattino seguente e stavano dando un'altra grande festa e lui la cercava non riusciva a trovarla sapeva che doveva lavare i piatti e così via quindi il lavoro sporco è tutto quello di cui potevate liberare liberare ed ecco il modo in cui deve riceverlo la vera chiesa di Dio a volte il lavoro sporco tutti i nomi di scandale tutte le cose che sono cattive gettate addosso e lei è un grande uccello chiazzato tutti gli altri uccelli si riuniscono e radunano da lei va tutto bene il suo nome è sul libro della vita dell'agnello un giorno allegrerà la sua grande ala per un volo è pronta quelle chiazze significano il sangue di Gesù Cristo spruzzato su di lei vedete l'aveva letto nel vostro libro la Bibbia e questo ragazzo quella notte mentre usciva raggiunse alla signorina e disse ti ho osservato nessuno lo sa oltre a me disse sono venuto qui per cercare una moglie e di tutto quello che ho mai visto tu adempia i requisiti come si sentì lei il figlio del padrone ora le chiedeva se voleva essere sua moglie immaginate solo come quelle ragazze dovevano essersi sentite quando guardarono fuori dalla finestra e videro tenere le mani a quella piccola cugina rigettata l'uomo che la aveva cercato di sedurre con tutti i loro bei abiti e decorazioni e comportarsi male e lui disse vuoi sposarmi oh disse le signore non sono degna ecco come si sente in merito a ciò la vera chiesa non sono degna posso se solo potessi lavare i tuoi piatti andrebbe bene siete disposti a prendere quel posto potreste lavare i piatti della cena sareste disposti a essere chiamati fanatici oppure sareste disposti a prendere la via con i pochi disprezzati del signore siete disposti siete disposti al lavoro a essere marchiati ecco un uomo è un fanatico religioso perché non beve non fuma non ballano ma in giro con le donne ecco una donna che tiene il capo basso e cammina come per la città non è non si unisce ai nostri circoli siete disposti a prendere la via a prepararvi per la venuta del signore se avete se lo fate starete aspettando che egli venga gioirete della sua venuta non sarà una cosa spaventosa sarà il momento più piacevole a cui potete pensare la venuta del signore tutti quelli che lo amano la sua apparizione buongiorno questo è 12 dicembre 2020 le aquile si radunano insieme gloria al signore e questa è la lettera del fratello joseph brunham del tabernacolo brunham a jeffersonville indiana qui è il fratello joseph cara signora gesù congratulazioni quanto siamo eccitati di essere stati scelti per essere chiamati la preziosa sposa di gesù cristo saremo ovunque se è il nostro sposo egli non ci lascerà mai noi non lasceremo mai il suo fianco condivideremo con lui il trono saremo inconorati con la sua gloria e onore sono i giorni più grandosi e felici della nostra vita i giorni che tutto il mondo ha desiderato e aspettato gesù che viene per portare via la sua sposa scelta anche lo sposo è molto eccitato egli ha pianificato e aspettato questo giorno fin dall'inizio del tempo tutti i suoi ospiti sono stati invitati e hanno accettato il suo invito egli ha preparato per noi una grande cena al banchetto con un tavolo lungo mille miglia egli stesso sarà con noi e sarà il nostro dio egli asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi non ci sarà più morte né tristezza né pianto né ci sarà più alcun dolore perché le cose di prima saranno passate e non le ricorderemo più egli ci ha anche costruito una nuova casa in cui vivere una santa città una nuova Gerusalemme che scende da lui dal cielo preparata come una sposa adorna per suo marito perché le cose di prima sono passate quanto è meraviglioso tutte le meravigliose promesse di dio adempiute tutto sarà completato il cambiamento sarà completo l'agnello e la sua sposa stabiliti per sempre in tutte le cose perfette di dio e quale nome riceve una donna quando sposa l'uomo le riceve il suo nome sarà il suo nome che ci verrà dato o esse miele nella roccia per noi e lo stiamo leccando mentre ascoltiamo le sue lettere d'amore ogni giorno continuiamo proprio a lucidare ogni pepita che odiamo egli si sta dicendo che abbiamo ricevuto una rivelazione della sua sepprima deità egli non è una seconda persona di una trinità ma dio stesso fatto carne dimorante fra noi io sono la porta io sono la via io sono la verità io sono la luce io sono l'alfa e l'omega io sono il primo e l'ultimo io sono il padre io sono il figlio io sono lo spirito santo io sono la presenza vivente per l'eternità poi egli ci dice che decreto divino che egli preconosceva che saremmo stati la sua sposa egli ha scelto noi non abbiamo scelto lui egli ha chiamato noi noi non siamo venuti da soli egli è morto per noi egli ci ha lavato nel suo sangue egli ha pagato il prezzo per noi apparteniamo a lui e a lui soltanto egli è il nostro re e noi siamo il suo regno la sua possessione eterna siamo vincolati interamente a lui ed egli accetta l'impegno la sua sposa in grande aspettazione di ascoltare la nostra lettera d'amore domenica alle 14 ora di Jeffersonville mentre egli ci porta l'epoca della chiesa di Philadelphia 60 12 10 egli ci rivelerà ancora una volta che siamo nella quella vera sposa parola che non sarebbe stata smossa ma è rimasta e accreduta a ogni parola fratello Joseph Brana e tra parentesi Signora Gesù scritture da leggere in preparazione all'ascolto del sermione l'epoca della chiesa di Philadelphia sono San Matteo capitolo 1 versetto 1 e 2 San Matteo capitolo 1 versetto 17 23 San Matteo capitolo 16 versetto 13 e 18 San Giovanni capitolo 5 versetto 19 San Giovanni capitolo 10 versetto 5 San Giovanni capitolo 10 versetto 7 San Giovanni capitolo 10 versetto 27 Atti capitolo 15 dal versetto 13 al versetto 14 Romani capitolo 2 versetto 29 Efessini capitolo 2 versetto 19 e 20 Apocalisse capitolo 2 versetto 13 Apocalisse capitolo 2 versetto 17 Apocalisse capitolo 3 versetto dal 7 al 12 Apocalisse capitolo 3 versetto 15 Apocalisse capitolo 7 dal 9 al 17 versetto e capitolo 21 di Apocalisse versetto 1 e 2 questo conclude la lettera del fratello Joseph Branham dal Tabernacolo Branham a Jeffersonville Indiana ci sono inoltre i link qui del tabernacolo Branham.org e inoltre i link delle Sierra Vista che sono in piena collaborazione con il tabernacolo Branham dipende da che lingua stiate ascoltando e così sceglierete voi il sito internet ma ascoltate e ovunque voi siate fate parte dell'unione invisibile della sposa di Cristo fino alla prossima volta Dio vi benedica e shalom